investo stocks istruzioni per l'uso per lo stock picker cioè per chi vuole scegliere i titoli migliori in cui investire ben trovati questo contenuto è pensato per le persone che hanno scelto investo stocks che è il nostro servizio di consulenza generica che vi propone un portafoglio modello costantemente aggiornato di una dozzina di titoli azionari singoli non di tutto il mondo ma di usa america e italia abbiamo avuto un incredibile incremento di iscritti che però si trova di fronte un problema il nostro portafoglio per ogni titolo ha l'indicazione buy or hold e le persone giustamente ha notato che oggi siamo a fine settembre 2024 più o meno la metà dei titoli è in hold e quindi cominciano a chiedersi ma io ho comprato un servizio e non lo uso perché di fatto posso comprare pochi titoli poi quelli che sono in buy magari hanno anche stornato oppure viceversa sono cari e quindi in buona sostanza non faccio nulla nulla di più sbagliato perché i titoli del portafoglio una volta che sono stati selezionati con cura dal nostro ufficio studi vanno comperati tutti il fatto che alcuni siano in buy altri siano in hold è semplicemente un'indicazione della forza relativa di breve periodo quelli in buy vuol dire che verosimilmente hanno più possibilità di correre nel breve quelli in hold un po meno ma il concetto e lo trovate anche nel manuale operativo in fondo a ogni edizione perché poi il portafoglio era chiuso in una newsletter settimana bisettimanale in cui appunto raccontiamo anche un po come vanno le cose parliamo di titoli che compongono portafoglio stesso appunto in questo manualetto c'è scritto quindi il concetto è comperateli tutti questi titoli benedetti comperatene uno per volta magari uno un mese l'altro l'altro mese e così via se volete un parere assolutamente personale perché poi la ricetta non c'è beh io ne comprerei due al mese i titoli sono 12 in sei mesi avete creato portafoglio perché il concetto amici miei è che è vero che noi andiamo a selezionare i titoli migliori però in realtà noi compriamo un portafoglio di titoli quindi non è una serie di scommesse o di numeri buttati lì portafoglio è creato secondo una sua logica con dei titoli ad alta potenziale di crescita con qualche titolo un pochino più noioso che paga dei dividendi costanti ma è un portafoglio quindi la logica della diversificazione della concretezza del fatto che alcuni titoli sono poco correlati con gli altri quello resta non commettete l'errore di fare un po di testa vostra e su dieci titoli comprarne uno perché poi ovviamente magari la sfortuna vi colpisce quel titolo li perde come self force per dirne uno dei titoli che abbiamo mentre altri sono saliti tantissimo quindi ripeto il portafoglio va comperato tutto dato che non è possibile sapere cosa ci riserva al futuro fate una scaletta temporale un titolo al mese per chi vuole andare un pochino più lento due titoli al mese per chi vuole essere più veloce tre titoli per chi vuole essere estremamente rapido tenete anche presente e poi concludo che oggi noi siamo in una situazione di trend secolare riazzista ovvero aspettare troppo a comprare vuol dire perdere delle opportunità con un mercato che sale mercato sopravvalutato beh chi siamo noi per dirlo sì forse anche sopravvalutato ma anche nel 2000 restò sopravvalutato prima di crollare e non parliamo di qualche mese ma parliamo di almeno 4 o 5 anni perché già nel 95 io ricordo che si parlava di mercato sopravvalutato peccato che poi si andò in bolla nel fine 99 e la bolla scoppiò nel 2000 quindi ci fu un bel quinquennio di performance che sarebbe un peccato perdere non comprate tutti i titoli domani mattina però comprateli di qua al prossimo metà del 2025 giusto per essere chiari così siete sicuri di utilizzare al meglio il servizio che è un servizio che funziona c'è dal 2011 e più o meno ha avuto dei rendimenti quasi del 20 per cento l'anno comunque vi lascio in descrizione il link per chi non ha ancora conosciuto questo servizio e trova tutti i dati poi se siete interessati naturalmente trovate anche i dati di contatto per parlare direttamente con noi grazie per l'attenzione e buon investimento con segreti bancari e investo stocks